buongiorno a tutti anzi dovrei dire buonanotte vista l'ora è mezzanotte appena passata ho appena visto le due manche dello slalom speciale femminile di l'ins quindi felpettina su misura da che freddo che fa perché appunto dobbiamo parlare di sci slalom speciale femminile dicevamo di l'ins prima c'era stato il gigante ne parlerò comunque nei prossimi giorni sicuramente probabilmente già sabato o venerdì notte vedremo perché poi nella giornata di domani ho le bollettine scridine del gigione da fare c'è un po di cose comunque adesso parliamo di sci quindi la prima a scendere la truppe vediamo quale sarà il primo tempo di riferimento di questa prima manche in attesa naturalmente di vlova e schiffer il suo tempo è 55 e 97 che anche il primo tempo da battere con il pettorale 2 scende petra mulova questo è già un tempo che potrebbe essere importante per quello per quelle che verranno dopo molto bene un secondo e 17 di vantaggio su truppe già comincia a mettere i puntini come si suol dire sulle i ma adesso con il pettorale 3 scende sua maestà michaela schifrin e da regina con una gara in rimonta si prende il primo posto parziale ma però con solo i 26 centesimi sulla vlova quindi nella seconda manche ci sarà comunque battaglia non ha già fatto il vuoto come si suol dire con il pettorale 7 scende la sven larsson ma dopo il secondo intermedio scivola via e saluta la gara e lei è la prima sciatrice ad uscire appunto di questa gara di speciale con il pettorale 10 scende la nostra serene con toni vediamo cosa combina la nostra sciatrice purtroppo è solo ottava con un ritardo di 1 e 59 quindi ottava ed è decima 1 è uscita quindi è penultima ahimè comunque la classifica dopo la prima manche perché naturalmente nessuna è riuscita a stare davanti a sua maestà vede la schifrin al primo posto con il tempo di 54 54 al secondo posto la blova 26 centesimi al terzo la everloset a 70 centesimi al quarto una buona linsberger a 76 centesimi al quinto la san germen a 97 centesimi al sesto la dura 99 al settimo la oldener a 1 e 12 all'ottavo la ghisina 1 e 21 al nono la hackerman a 1 e 32 al decimo la gallubera 1 e 37 tre italiane parteciperanno alla seconda manche che sono la brignone quattordicesima che zitta zitta cacca cacchia sta iniziando anche a fare benino benino noi lo diciamo piano anche in slalom speciale la curtonia quindicesima e la della mea e ventottesima inizia la seconda manche la prima a scendere è la hilzinger che era trentesima naturalmente dopo la prima manche in questo caso non fanno come hanno fatto con le super la combinata la super combinata chiamatela come volete che gli sciatori che avevano vinto il super g partivano per primi proprio per dargli qualche chance in più invece qua si torna alla normalità si parte dalla trentesima e si va alla prima quindi la hilzinger è trentesima parte per prima il suo tempo di riferimento è 1 53 e 09 vediamo se riuscirà a recuperare qualche posizione naturalmente il tempo totale tra prima e seconda manche tocca la nostra della mea che era ventottesima vediamo se riuscirà a stare davanti alla tedesca purtroppo no è dietro di 42 centesimi quindi ne aveva quattro di vantaggio ne ha persi 46 comunque è seconda male che vada perderà solo una posizione calcolando che magari non me ne vogliano ma qualcuna accade o che cosa qualche posizione cina magari la recupera lo stesso l'importante è arrivare in fondo tocca alla maire ventisettesima dopo la prima manche vantaggio di 21 centesimi buona prova riesce anche a incrementare si prende il primo posto posibisorio con ben 62 centesimi di vantaggio e magari la maire zitta zizza cacchia cacchia qualche posizione cina la recupera tocca alla rem vantaggio importante 94 centesimi vediamo se lei riesce a scalzare la maire dal primo posto purtroppo la rem in forche deve dire ciao ciao alla gara è la volta della lisla 95 centesimi di vantaggio e ventunesima dopo la prima manche pur perdendo perché qualcosina la persa anzi quasi tutto riesce a stare davanti con 22 centesimi quindi ha perso ben 73 centesimi dei 95 di vantaggio però alla fine della fiera confermerà male che vada la sua ventunesima posizione tocca alla mia zinski 8 centesimi di vantaggio quindi c'è poco spazio per gestirlo vediamo cosa combinerà invece fa una buona prova incrementa anche il vantaggio e con 36 centesimi passa al comando quindi 36 centesimi in meno del tempo della sciatrice aiuto non mi ricordo più della lisla tocca alla smoz che aveva lo stesso tempo della canadese e a sua volta si prende il primo posto provvisorio con 21 centesimi di vantaggio ottima gara della tedesca quindi è la volta della rova 17esima dopo la prima manche e 16 centesimi di vantaggio sulla smoz alla fine anche lei si prende la prima posizione ma perde qualcosina perché sta davanti per soli 9 centesimi quindi ne perde 7 tocca alla hullman solo 3 centesimi di vantaggio sulla rovat vediamo se gli basteranno per confermare o meno la sua posizione anche lei fa un'ottima prova e si prende il primo posto con ben 16 centesimi di vantaggio quindi ne ha incrementati 13 magari possono essere utili per recuperare qualche posizione tocca alla nostra Irene Curtoni vantaggio di soli 3 centesimi 15esima dopo la prima manche no 14esima scusate dopo la prima manche vediamo cosa combina purtroppo è solo quinta con ben 77 centesimi di ritardo però in ogni caso starà nelle 20 perché era 14esima perde 5 posizioni manca 18esima quindi male che vada tocca alla nostra Federica Brignone 5 centesimi di vantaggio sulla holman purtroppo lo slalom non è ancora la sua specialità comunque è quarta con 52 centesimi di ritardo quindi male che vada sarà sedicesima visto che ne mancano 12 tocca all'alfan 7 centesimi di vantaggio sulla holman purtroppo cade prima del muro finale mentre era ancora in luce verde mannaggia mannaggia anzi non è che era proprio in luce verde era un po in luce rossa ma era un luce rossa a due centesimi sette centesimi era lì lì a giocarsela tocca alla dagnot vantaggio di 18 centesimi e dodicesima dopo la prima manche una bellissima gara peccato che nell'ultima parte perde qualche decimino di troppo ma alla fine è prima con 23 centesimi di vantaggio quindi ha incrementato di qualcosina 5 centesimi vabbè meglio che niente tocca alla gallube 7 centesimi di vantaggio sulla dagnot ma purtroppo proprio all'ingresso del muro aveva appena superato l'ulterzo intermedio è andata proprio letteralmente gli si sono girati gli scirbata a girarsi in testa a coda come si suol dire e dice ciao ciao alla gara e la dagnot zitta zitta ringrazia è la volta della akerman 12 centesimi di vantaggio sulla dagnot e fa una gara ed è grandissima libidine mi consente perché arriva giù 56 centesimi di vantaggio sulla dagnot mancano otto sciatrice male che vada conferma la sua nonna posizione ma con un tempo così forse qualche posizioncina la riesce anche a recuperare comunque la classifica quando mancano otto sciatrici cioè le migliori otto della prima manche vede la akerman al primo posto la dagnot al secondo la holman al terzo la rovat al quarto la smozza al quinto la mielzinski al sesto la brignone al settimo la curtoni all'ottavo la lisa al nome e la mai al decimo mancando otto sciatrici male che vada la brignone sarà quindicesima e la curtoni sedicesima erano quattordicesima e quindi tredici e quattordicesimi perdono qualcosina ma può andare bene lo stesso comunque tocca alla ghisi la prima delle la peggione delle otto diciamo vantaggio di undici centesimi ottava nella prima manche appunto vediamo se riuscirà a stare davanti e ci riesce con ben 19 centesimi di vantaggio quindi incrementa di otto centesimi sulla akerman che già aveva fatto una bella gara avendo dato ben 56 centesimi alla avversaria e quindi la ghisi zitta zitta male che vada sarà ottava però la gara non è stata male tocca la oldenair 9 centesimi di vantaggio e settima dopo la prima manche la prova sembra buona incrementa anche di qualche centesimino perché passa al comando per 15 centesimi poi però le immagini fanno notare che ha inforcato quindi ahimè niente da fare per la oldenair che rimane lì seduta per un po e poi però deve salutare perché praticamente nessuna dopo la la oldenair è riuscita a stare davanti appunto alla ghisi la oldenair gli era riuscita a stare davanti ma aveva inforcato e quindi adesso tocca soltanto alla vlova e alla schifrin con la ghisi che stava piangendo contentissima perché aspettava il podio da tanto tempo e quindi finire sul podio si è messa a piangere però mancano ancora la prima e la seconda quindi tocca la seconda tocca la vlova vantaggio di 95 centesimi su ghisi che appunto stava piangendo commossa però alla fine della fiera la la vlova non ha alcuna pietà tra virgolette e si prende il primo posto incrementando a un secondo e undici il suo vantaggio quindi ha incrementato di 16 centesimi però adesso deve scendere sua maestà e la sua maestà signori sua maestà e sua maestà quindi partiva con 26 centesimi di vantaggio finisce con 61 centesimi di vantaggio si prende l'ennesima vittoria e la 63esima perché devo ancora non io non so ancora come è andato lo slalom gigante di cui parleremo ma si è giocato si è svolto prima di questa gara giorno prima di questa gara questa è la 63esima se vince anche il gigante sono 64 vittorie in coppa del mondo a 24 anni non dico altro io la chiamo sua maestà non per nulla e se non erro ha superato ampiamente i cento podi in carriera tanta ma tanta ma tanta roba per l'americana con quella classifica finale vede la scifre nel primo posto la vlova al secondo la ghisin al terzo la linsberger al quarto la akerman al quinto la dura al sesto la danio al settimo la olman all'ottavo la saint germain al nono la rovat al decimo e per quanto riguarda le italiane la brignone tredicesima quindi recupera una posizione la curtoni al quattordicesima e recupera una posizione e della mea la laretta della mea che ha fatto una gara così così perché ha perso una posizione rispetto a quella che gli stava dietro è riuscita ad arrivare ventiquattresima e quindi recuperare ben quattro posizioni quindi alla fine non è andata malaccio per le italiane sappiamo benissimo che in slalom speciale facciamo quel che riusciamo con quello che abbiamo detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao